In merito alla conferenza stampa in cui i 14 dissidenti al comune di Tre Mestieri vogliono sfiduciare il sindaco Concetta Rapisarda, parliamo con il consigliere Zinna. Consigliere, la situazione dei 14 dissidenti sarà confermata anche questa sera? Assolutamente sì, è un atto dovuto e doveroso in quanto fino adesso questa amministrazione ha portato da crescita per questa piccola cittadinanza che ci trova sempre in difficoltà per tutti gli aspetti amministrativi e su tutti i servizi dal servizio dell'ecologia, dal servizio dell'igiene, dalla manutenzione di verde e quant'altro. Siamo compatti, abbiamo sottoscritto questo atto importante, questo grande atto di responsabilità e posso io confermare che il Partito Democratico di cui faccio parte voterà la proposta di delibera. Il problema è che è risaputo ed è chiaro che anche se solo uno di questi consiglieri dovesse demordere dal vostro intento, l'intero progetto sfiduciario andrà a decadere. Sì, ne sono assolutamente convinto, è ovvio che io non posso garantire sugli altri consiglieri comunali, sugli altri miei colleghi, ma il progetto iniziale è stato compatto su tutti i 14 e quindi stasera non ci saranno sorprese di turno. Come ci conferma il consigliere Zinna, ci rivedremo questa sera e vedremo, le nostre telecamere saranno presenti al Consiglio Comunale che si terrà oggi alle 20 e 30 e vedremo se tutto andrà come nelle previsioni.